I ritmi della vita moderna spesso rendono difficile controllare il peso seguendo una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo. Per aiutarti a orientarti, Herbalife Nutrition ha creato la guida al benessere e cosa serve al tuo corpo, che grazie anche ai nostri fantastici prodotti ti aiuterà a raggiungere i risultati desiderati. Le proteine sono nutrienti essenziali utilizzati da ogni cellula del corpo. Per riuscire a controllare il peso occorre ridurre il grasso corporeo piuttosto che la massa muscolare. Le proteine favoriscono il mantenimento dei muscoli e prolungano il senso di sazietà. Il fabbisogno di proteine può variare in base a molti fattori, come l'età e i livelli di attività fisica. Come regola generale, cerca di assumere giornalmente un grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo. Sfatando un luogo comune, i carboidrati sono nutrienti chiave, in quanto fonte di energia preferita dal corpo. Scegli i carboidrati complessi, come i cereali integrali, che contengono fibre, assicurano un rilascio continuo di energia e prolungano il senso di sazietà. Le fibre supportano anche la motilità intestinale e l'apparato digerente. Il benessere intestinale è importante per il mantenimento del peso, poiché favorisce l'assorbimento dei nutrienti. Cerca di assumere almeno 25 grammi di fibre al giorno. Dare al corpo la giusta quantità e tipologia di grassi può favorirne un corretto funzionamento. Includi nella dieta quotidiana grassi buoni, come gli acidi grassi omega 3, presenti soprattutto nei pesci grassi. Questo tipo di grassi può aiutare a mantenere normali livelli di colesterolo nel sangue. Quando si vuole controllare il peso, spesso si riduce la quantità di cibo consumato. Questo aiuta a ridurre le calorie quotidiane, ma può anche incidere sull'apporto di nutrienti come vitamine e minerali, che sono essenziali perché non possono essere prodotti dal corpo. Cerca di includere nella tua dieta quotidiana almeno 5 porzioni di frutta e verdura, fonti ricche di questi nutrienti. Contengono anche fitonutrienti, nutrienti a base vegetale con proprietà antiossidanti, che aiutano a proteggere contro i danni a cellule e tessuti. Oltre ad una buona nutrizione, sono fondamentali per il controllo del peso, delle sane abitudini nello stile di vita. Ti consigliamo di bere fino a 2,5 litri di acqua al giorno, per mantenerti idratato e sentirti più sazio. Fai ogni settimana 150 minuti di esercizio fisico di moderata intensità o 75 minuti di esercizio vigoroso. Aiutano a ridurre i livelli di stress e a favorire il bilancio calorico. Dormi dalle 7 alle 9 ore al giorno. Le persone con un sonno quotidiano adeguato non solo hanno meno probabilità di essere sovrappeso, ma fanno anche scelte alimentari più sane. Se hai bisogno di ulteriore supporto per raggiungere i tuoi obiettivi di forma fisica, contatta oggi stesso un distributore indipendente Herbalife Nutrition.